buongiorno carissimi bentrovati in questo venerdì della undicesima settimana del tempo ordinario oggi anche memoria di san luigi gonzaga pare che la liturgia della parola ci faccia riflettere un pochettino su dove il nostro cuore è attaccato sia attaccato in dio oppure nelle cose del mondo già della prima lettura tratta dal secondo libro dei re troviamo una donzella è atalia madre di acacia per la morte del figlio ha una vendetta talmente forte dentro il suo cuore che vuole distruggere e uccidere tutti i discendenti del quindi futuri re fondamentalmente no è una donna vita di potere una donna sanguinaria una miscredente e allora ecco che viene fuori il sacerdote io yadda che salva la dinastia regale perché viene messo da parte viene nascosto questo bambino che è cresciuto poi diventerà il nuovo re di fronte a questa acclamazione ovviamente atalia rimane sconcertata quindi dice a voce alta che è qualcosa di una una congiura con giura e poi alla fine viene verrà uccisa di spada suo cuore è attaccato alla vendetta all'odio alla egocentrismo alla sete di potere fa sì che la sua vita anche se dopo vari anni comunque va nel decadimento e nella fine ecco perché nella sapienza Gesù ci dice non accumulate per voi tesori sulla terra dove tarmi e ruggine consumano e dove l'armi scassino non rubano accumulate invece per voi tesori in cielo e allora se la lampada del corpo è l'occhio l'occhio deve essere proprio nella luce nella luce della fede quella luce che è San Luigi Gonzaga di cui oggi facciamo memoria siamo nel 1568 quando nacque a Castel dell'Estiviera a Mantua un bambino che viene stradato però dal padre nella nell'opera bellica perché così era il padre così voleva ma il figlio no infatti nel suo cuore c'era il desiderio di rispondere alla chiamata di Dio che si concretizzò all'età di 14 16 anni quando intraprese il cammino nella compagnia di Gesù questo cammino che poi lo portò a Roma a servizio anche del prossimo in una peste che regnava in quella città ecco Luigi facendo servizio nei confronti del prossimo ne fu contagiato e morì a soli 24 anni famosissima la lettera che scrisse alla madre dove in maniera molto bella diceva o illustrissima signora guardati dall'offendere l'infinita bontà divina piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita quella grande fede lui Luigi l'ha vissuta attaccando il suo cuore le cose del cielo non a quelle della terra ci auguriamo di poterlo anche fare noi nel nostro cammino bene buona e santa giornata a tutti quanti voi e tanti auguri di buono nomastico a coloro che porti il nome per Luigi con composti con tutte le aggiunte eccetera eccetera ci vediamo domani per il nostro appuntamento